cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo non è destinata a placarsi la forte ondata di maltempo che sta colpendo il nostro territorio il mese di marzo si apre ancora con la pioggia nel dettaglio sul veneto il cielo risulterà coperto con fenomeni diffusi anche localmente moderati limite della neve intorno ai 1300 1600 metri su pre alpi e dolomiti il rischio di valanghe sarà ancora marcato i venti saranno moderati da nord est le temperature in contenuta variazione minime tra 6 e 10 gradi massime tra 10 e 13 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui molte nubi con precipitazioni un po ovunque moderate sulle pre alpi quota neve indicativamente oltre i 1500 metri circa temperature minime tra 8 e 10 gradi massime sui 12 13 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige avremo anche qui condizioni estremamente variabili con piogge un po su tutti i settori temperature minime sui 7 8 gradi massime intorno ai 12 dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori grazie a tutti